ho perso ma scusate tra oggi faccio ragazzi siamo ritornati finalmente dopo dopo un mese che non facevo video quindi finalmente sono ritornato siamo tornati con la mascotte del canale di fili cioè io donato in euro per diminuire lo sfruttamento di leonardi intanto ragazzi siamo al caricamento tanto nati con la nostra ignoranza le sghere bro raga commentate con ignoranza nel fatto sto giocando a bro quindi se parte qualche insulto intanto ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella per un persino non so parlare tardi quindi sono un di attivato il campanella per perdere sul video solo importantissima e intanto oggi no no sì 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 cosa sta succedendo intanto ragazzi finalmente faremo il duo con leo è un po' mi mancava che biello farò duo con figli io ho riavviato e io sono appena tornato alla lobby perché c'è stato una cosa brutta che è successa e inviti dove è invitata ok ovviamente non posso trovare un brawler nuovo che pareva ha comunque ragazzi ritorneranno gta online problema che con i co in compagnia di leonardo comunque ragazzi di leonardo leo scusa non volevo è come dire giochi per me la brutta parola e guochi giusto muochi luo chi è io vuoto tu vuoto e si vuocano ok bene intanto ragazzi mettiamo coppia facendo un'altra partita brawl quindi non rompete ma come tanto ragazzi spolliciate per te vede faremo i dati a far partire un video passiamo a fare tipo troppo cringio sto video atti però effettivamente ci posta è un attimo sto facendo una partita brawl vabbè intanto vediamo che cosa fa che cos'è sta roba un cesso poi guaiocchi tabur io mangio la pizza con l'ananas tu sei pazzo uccidetelo ragazzi vabbè intanto ragazzi scherziamo non è che che la mangio l'ho assaggiata come musica no non è male perché c'è quel salato della pizza che si mischia col dolce della dell'ananas e non è male ragazzi mettete questo non è malvagio mettete questo numero 8 8 8 0 0 6 5 5 4 per supportare tutti i napoletani che moriranno per le parole che sta dicendo leonardo io mangio il sushi con la pizza vabbè intanto ragazzi sono i miei due cibi preferiti gli unisco sto i suci mi fa vomitare sono i miei due cibi preferiti se io unisco i miei due cibi preferiti e stones dai frappetti pronto se lo dura 30 anni sto video fermo sono una partita bravo dai è quasi finita intanto ragazzi vediamo che cazzo abbiamo pure perso dai che voglio portarmi rosa grado 15 grado 15 ma c'è un grado 20 cheat con filippo andremo a fare due e moriremo va bene dopo questo video devo togliere pronto devo cambiare il 7 devo mettermi tutto il 7 del del marzapane giusto anche io allora questo poi ci mettiamo questo cazzo minato poi mettiamo slitta di zenzero e siccome non abbiamo una scia di una scia per quanti zenzero mettiamo questo a me dai carino questo poi vedi tutto il mio set che è tipo strabello e poi certo questo dai ragazzi che trash vabbè intanto ragazzi vediamo se cosa guarda faucerano il sillio 8 no dai ma porca troncero ma ok mi è passato oh che freddo ma che cosa intanto parliamo che Leonardo è a Milano quindi ci sta che muore vero casi di coronavirus vicino a Milano che bello Fili se dovessi morire per coronavirus sappi che ti ho voluto bene dai a morire se dovessi morire per coronavirus cosa che non spero ti ho voluto bene ma seriamente ti mette paura sapere che hai dei casi di una malattia mortale vicino e che il vaccino verrà scoperto tra sei mesi se ci pensate però veramente una siciliana e sai qual è il bello? che il 2020 andiamo a parco inizia ancora meglio perché? è stato scoperto un nuovo virus in Brasile yeah vabbè però ragazzi ascoltate tutti i siciliani che ascoltano questo video finalmente una siciliana ha fatto che in Sicilia non arriverà il coronavirus quindi sono salvo andiamo a trasferirci in Sicilia madre trasferiamoci in Sicilia tanto c'è anche Filippo che va bene ho spoilerato il mio nome vabbè tanto lo sapete dai vabbè venite vicino a casa mia ci divertiamo andiamo al mare urliamo come dei coglioni prima ti tiro due cazzotti sul naso perché? per tutte le scemate che hai fatto nella tua vita c'è un problema perché ricordati che il karma torna sempre indietro non c'è un problema io faccio a me non sto più laggando a te faccio karate di don calciavoli na 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 non anche io non sto laggando vedi che si chierà Lello comunque raga Lello era è tutto colpo di Lello Lello era un nostro amico era un nostro amico prima che venisse preso dalla cismace 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 probabilmente questa cosa è brasiliana mi cazzo no è il barese barese aiuta assolata ma così qua sono manca un colpo io non l'ho preso con manco un colpo ha sulla pistola? ha una pistola un assalto un famas leggendario sua sorella troia ma perché non puoi usare il piccone? qui secco da vai cazzo ti arriva una sinistra lo so a destra a fa' quello ok no 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 ci credo va a cagare strazo leggendario eh si gliel'ho lasciato io quando mi ha ucciso va bene allora preparati che io arrivo subito ok è morto mi sa Leo bene scissi ma scissi ma scissi questa è nuova cosa oh yeah ma Leo è acquittato è morto è morto di coronavirus che su sé che è br ora sentiamo dei rumori strani credo che è appena morto va bene dai l'ho voluto bene sono dettagli della vita ma dove cazzo è andato boh è morto raga vabbè meglio dai ma dove cazzo sta oh Leo ma cazzo è andato vabbè boh moriremo tutti vabbè meglio va bene io voglio andare in agenzia vediamo se moriamo o no terra borgo mi stacco cento volte ma che cazzo cento volte vengo domani Leo ma è morto questo meglio dai così non peso no scherzo dai Leo povero no scherzo Houston we've got a problem problema Houston morì where are you i fire fuck you i'm coming i fuck you bitch dio dio oh mori seconda partita di merda guarda che loot c'è scritto invio dei regali in corso bene che rotta che rotta di coi di coi di coi di coi vero ma credi ma leo ora ti devo dire una cosa cosa visto che tu hai detto che sei molto alto quanto sei alto 180 se mi vedi succede qualcosa di strano sta perché vedi che figata se io sono un metro e 40 e 46 e quindi perché troppo perché sei alto tu stronzo e perché dovevi esserlo te perché il sud basso no sono ai nordici che sono più alti dei sud se i nordici che sono più alti dei sud dici bene ma non mi ha preso la scheda mio 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 ma non fa niente ma che bello andiamo ok va bene guarda cosa posso fare e guarda se io posso davanti alla telecamera non mi vedete ma se passi se sei una guardia cosa succede niente perché sono una guardia vedi e quindi riconosce che sono un nemico cioè che non sono un nemico che figata io ora in teoria potrei aprire la cassa quella che c'era la bella te la ricordi sì sì e devi trovare un'altra cabina ah così me lo rimuovo posso anche rimuoverlo ovvio carino no vabbè fattolo come prima preferisco tenermelo sì sì che bello che sono sei un brutto come la fama ma secondo me c'è so che ci sono ci sono tutti i nostri amici